Hanno scritto che diciamo cose banali ma noi parliamo sempre dei bisogni di anziani bambini invalidi se queste sono cose banali hanno scritto che facciamo proposte semplici ma quello che è mancato a questa città è la semplicità l'ordinaria amministrazione per carità se questi sono i nostri due difetti non votateci votate sempre i soliti votate i fiorito i noto i bassetta i natalia e i tagliaboschi non votateci ma se volete cambiarla e cambiamola davvero questa città votate Fernando Fioramonti sindaco